Sto per dirvi un segreto nazionale Agente speciale Alex Scott Speciale, quanto mi piace, ero un normalissimo agente fino a un paio di settimane fa Lavorerai con un civile Con un civile? Ed ecco l'indiscusso campione del mondo, Kelly Robinson Ai, ma che scemo! È il presidente Il presidente vuole un favore, una missione top secret Da non dire a nessuno Ah, sei una specie di 007 Sì, ma io sono 0027 centimetri e mezzo C'è un belato doppio senso Arnold Gunders, uno dei maggiori mercanti d'armi Pensiamo che abbia quest'aereo, il serramanico Non è individuabile dai radar, dagli infrarossi e dall'occhio umano Gunders è un fanatico della box e c'è un solo modo per infiltrarsi Kelly Robinson! Ha intenzione di parlare di Tainters a persona per tutto il tempo? È molto irritante Che c'è in quella borsa? Roba da spie La tua spy cam Guarda le dimensioni che ha Le dimensioni contano, ma per una spia è tutto al contrario Deve poter dire Guarda quanto è piccolo, sexy e divertente questa cosa Non guarda quanto è grosso Ma che fai lì appeso come un ragno ingrifato? No, 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 non entrare! Niente o po', nessuno può dirmi cosa devo fare Io sono Kelly Robinson Non usare questa donna con me, eh! Oh, cazzo Mi metto questa nell'occhio Io ho la telecamera nell'occhio Che figata mi vedo, vedo quello che vedi tu Vedo te che guardi me che guardo te, fantastico! È quello che faremo durante la missione Oh, santo cielo Sì, è qui che voleva arrivare Aspetta, no, ma... Fammi vedere almeno un peluzzo Ora ti faccio vedere lo stile Kelly Robinson Rezzi di forte Hai visto? Bella sì che era un'esplosione Vada! Le spie Che cavolo? Questo sembra un calzino È una maschera da spie È una maschera speciale da spie È un calzino nero È plural!